Tra tante chiacchiere la regione Abruzzo ha la sua finanziaria, è una regione in equilibrio, ci sono tanti investimenti, ci sono 49 milioni di meno a disposizione ma non ci sono tasse aumentate. Grazie. Così il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri al termine di un'assise molto faticosa segnata dal Covid che ha messo a rischio i numeri della maggioranza. Il percorso tortuoso era cominciato già in mattinata quando il Collegio dei Revisori dei Conti aveva espresso parere favorevole ma con riserva nei confronti del bilancio di previsione della regione Abruzzo, riserva legata al fatto che, come prevede la legge dello Stato, non è stata approvata la delibera a consigliare con il piano di rientro del disavanzo, oltre 360 milioni di euro. Comunque in tardanotte, ben oltre la mezzanotte, il sì all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 con il voto favorevole della maggioranza e il voto contrario delle opposizioni. Evitato così l'esercizio provvisorio, ma proprio il via libra con riserva fa correre il rischio di un'impugnazione successiva. Una lacuna gravissima la definisce Sara Marcozzi, capogruppo del Movimento 5 Stelle, che mette in pericolo quanto previsto finora, rischiando di far pagare le conseguenze agli abruzzesi. Evidenti le difficoltà emerse dopo la pandemia, prosegue la pentastellata, ma non sono comunque sufficienti a giustificare i tre anni di legislatura in cui non si è cambiato niente. Non vettraccia del piano di rientro sul deficit, e parliamo di un disavanzo di circa 360 milioni di euro, per cui la constatazione è che la Giunta Marsiglio, navighi a vista, non abbia alcuna programmazione e purtroppo l'Abruzzo si è in una totale incertezza. Un documento pieno di errore e lacune, caotico e confusionario, che ancora una volta non programma il futuro della Regione. Così i gruppi del centro-sinistra sul voto espresso sul bilancio, ma a far scatenare le ire, soprattutto quelli dell'ex assessore al bilancio Silvio Palucci, il colpo di coda, arrivato intorno a mezzogiorno, con il quale Sospiri ha cancellato 26 articoli su 37 del documento prodotto dall'Aggiunta Marsiglio. Addio all'aumento, alla diminuzione del taglio delle tasse, che era la più grande promessa di Marsiglio e della sua Giunta. Mobilità passiva, disavanzo in sanità, taglio al TPL, al trasporto pubblico locale, al diritto allo studio e al sociale. Ce n'è tanto per dire che questa Giunta lenta è bocciata, bocciata non solo da noi, ma dallo stesso Presidente del Consiglio e dei Revisori.